17 maggio 1981 il popolo italiano è chiamato a pronunciarsi mediante referendum sull'approvazione della legge 194 approvata il 22 maggio del 1978 che consentiva l'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni alla democrazia cristiana non basterà il sostegno della chiesa il 68 per cento dei votanti confermerà la legge sull'aborto